Presso il Cenere di Roma sono stati presentati oggi al pubblico tre nuovi quaderni del lionismo. Raccolgono i frutti dei tre progetti lanciati per quest'anno sociale dal Centro Studi Giuseppe Taranto, su indicazione del governatore del distretto Lions 108L, Giampaolo Coppola. Il Centro Studi ha focalizzato tre temi di attualità, famiglie e società, prospettive future, progresso scientifico e tecnologico ed infine l'uomo e il suo ambiente, un rapporto difficile. Il quaderno famiglie e società, prospettive future, del quale è stato responsabile Bruno Ferraro, ha affrontato un ampio ventaglio di aspetti, dalle difficoltà abitative ai problemi della separazione dei divorzi, dagli interessi e protezione dei minori ai tribunali minorili e della famiglia. A suggello del quaderno, la proposta di legge dei Lions per l'istituzione nei tribunali italiani di sezioni specializzate per minori e famiglia. L'uomo e il suo ambiente, un rapporto difficile che ha avuto come responsabile della sua redazione Bruno Manganaro, ha affrontato invece il problema del degrado ambientale e delle relative cause, individuate nell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché nella nocività dei campi elettromagnetici. Un particolare approfondimento ha riguardato l'uso intensivo degli agrofarmaci in agricoltura. L'argomento si conclude con una serie di proposte per un'agricoltura sostenibile, anche alla luce delle recentissime normative nazionali e comunitarie. Il quaderno Progresso scientifico e tecnologico, sotto la responsabilità di Arnaldo Sardoni, ha affrontato due temi, in parte collegati tra loro, quello dell'energia e quello dei trasporti. I due temi sono stati affrontati a 360 gradi, con analisi storiche e evolutive, con valutazioni critiche sui connessi problemi ambientali e sulle possibili soluzioni. Grande apprezzamento per l'opera dei Lions è venuto dal sottosegretario della giustizia Cosimo Ferri, intervenuto ai lavori. Voglio chiudere invitando il Lions, invitando sia il pass governatore Bruno Ferraro che l'attuale governatore, che è tutto l'ufficio studi del Lions, a iniziare questa collaborazione anche col mio di Castero, che oggi ho avuto la fortuna di rappresentare qui. E quindi lavoriamo con un tavolo magari che sia anche informale, però presso il Ministero della Giustizia, per confrontarci su questi temi e insieme approfondire una materia che ho cercato di spiegare quanto sia delicata e importante.